Morf, 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 Domandatevi pure perché, perché, perché tu sei ritornautrice, sì, è benedetta, Sta in piedi cazzo, ritagliamo la mia forbice è tornata a tagliare l'ho affilata con i denti adesivi che cosa abbiamo? un pink shot verdi giallo let's see finalmente flex ancora flex io non so se stia filmando veramente qualcosa si vedrà and ancora flex cosa abbiamo? black morph black morph e red morph mi piace questo shape adesivi 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 tanti tanti adesivi guardate quanti tantissimi grazie Flavio mi servivano mi servivano sì sì tanti tanti adesivi 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 più nada più niente non so se si vede ma comunque non c'è più niente chi vuole fantasticamente aggiudicarsi queste morph una forse è già prenotata tenete presente no c'è anche un flex morph le altre sono tutte shot quindi abbiamo 1,2,3,4 shot e 3 morph ragazzi la gara alle morph è aperta la gara